Il presente 2023 Classe quarta della parrocchia Santa Rita, piano della lenta Atena Con la nostra classe e le nostre catechiste, quest'anno abbiamo voluto realizzare un presepe tutto nostro per vivere insieme la gioia del Natale ed essere pronti a ricevere la nostra prima Santissima Eclistia il giorno della prima comunione La strada rappresenta il percorso per avvicinarci a Dio i rilievi e le montagne rappresentano le difficoltà che incontriamo e che abbiamo superato le abitazioni rappresentano il nostro rifugio per lei che dobbiamo lasciare per abbandonarci nel mondo migliore le greggi rappresentano le pecorelle che cercano il loro pastore noi uomini che cerchiamo il nostro Signore i pastori rappresentano i depositari della conoscenza della strada verso Dio attraverso la loro fede Maria e Giuseppe rappresentano la famiglia l'amore sotto la protezione del nostro Signore il berasinello rappresentano l'umiltà ed il calore umano il bambino adagiato sulle mangiatoie rappresenta la luce della verità e della pace la grotta rappresenta un riparo sicuro le numerose stelle che brillano in notte d'inverno rappresentano la luce che percorre la strada giusta i magi rappresentano la generosità del dare al prossimo qualcosa di proprio buon Natale a tutti buon Natale a tutti buon Natale a tutti buon Natale a tutti buon Natale buon Natale a tutti Grazie a tutti